Ciao carissimi amici di Verona Report, oggi siamo qui a Bussolengo alla 308esima fiera di San Valentino dal 14 al 17 di febbraio, quindi oggi vedremo tutti insieme la nostra giornata qui alla fiera gli stand, varie interviste a chi ha organizzato la fiera, quindi un bacione da Nicole e vamos! Ciao!